Amici, i fatti in breve. Mercoledì scorso Fausto Villoslavo, inviato di guerra del giornale, doveva partecipare a un convegno alla Facoltà di Sociologia di Trento. Un collettivo di studenti universitari si è adoperato per non farlo parlare, hanno minacciato una protesta, volevano picchettare, hanno peso uno striscione e, vista la situazione, un funzionario troppo solerte ha telefonato a Villoslavo dicendo che l'incontro era annullato. In realtà poi l'incontro in extremis si è svolto, ma si è svolto in un'aula della Facoltà di Giurisprudenza per iniziativa di un professore che ha interrotto la lezione e ceduto la parola all'inviato di guerra. Anche il rettore, bisogna dire, si è dissociato dal suo funzionario e ha promesso di invitare nuovamente Villoslavo. L'inviato di cosa era accusato? Di fascismo, di essere di destra, ma di fascismo in particolare di essere un picchiatore, un bastonatore fascista. Infatti alcuni membri di questo importante collettivo studentesco hanno sostenuto che Villoslavo aveva bastonato gli studenti che protestavano contro il regime dei colonnelli in Grecia. Il regime dei colonnelli inizia nel 67, Villoslavo aveva sei anni, finisce nel 74 e Villoslavo frequentava la terza media, quindi abbiamo un caso di bambino sospettato di essere un picchiatore fascista. Prendiamo dunque atto che in Italia si possono fare alcune cose e altre no. Ad esempio il sindaco dell'Aquila ha chiesto di vedere il programma di un festival finanziato con 700 mila euro destinati a rilanciare il territorio colpito dal terremoto. Il programma non si vede, non viene consegnato, però si sa che tra gli invitati ci sono Saviano, Zero Calcare, la solita compagnia di giro di tutti i festival italiani. Allora il sindaco chiede fatemi vedere sto programma e fate in modo che sia un programma pluralista. Niente, tragedia nazionale, la censura, si è scatenata la censura all'Aquila. Alla fine il ministro Dario Franceschini si sente in dovere di intervenire in difesa di Saviano che notoriamente non è capace di difendersi da solo, notoriamente non ha microfoni davanti alla bocca, notoriamente non ha modo di esprimersi. Va bene. Quindi se succede questo è una tragedia nazionale. Se le università vogliono far parlare Renato Curcio e tutti gli altri reduci del terrorismo rosso, benissimo. Nessuno glielo impedisce, hanno pagato il loro conto con la giustizia, possono insegnare agli altri come si sta al mondo adesso. Se un'università privata non rinnova il contratto a un professore, Marco Gervasoni ad esempio, perché ha espresso opinioni del tutto personali sui media, tutto bene se il professore è di destra. Cioè se il professore è di destra, la Lewis può lasciarlo a casa. Se il professore invece esprime opinioni di sinistra, quello non si tocca. Se uno dei due migliori inviati di guerra che abbiamo in Italia, Fausto Biloslavo, l'altro è Gian Micalessin e solo per caso lavorano tutti e due il giornale, sono miei colleghi, sono bravissimi, ecco se uno dei due migliori inviati di guerra viene cassato da un convegno in quanto di destra, va bene. Il ministro della cultura non si sogna neanche di intervenire, il ministro, anche perché non gli compete, va detto, il ministro dell'istituzione, dell'istruzione, il mitico Fioramonti, non si sogna di intervenire, non dice una parola, tanto lui deve pensare alle merendine che sono piene di zucchero, bisogna tassarle, eccetera eccetera. Tirate voi le conclusioni, io non posso che dire viva la libertà d'espressione garantita dalla Costituzione più bella del mondo, notoriamente la nostra.